...va a Michele Di Sciua del Veloclub Carpino Runners, premia il sindaco, mentre la maglia di campione provinciale la lasciamo consegnare al vicepresidente del comitato provinciale Fidal Foggia, Raffaele Rinaldi. Grazie ragazzi, andiamo avanti con la categoria Juniors maschile, secondo classificato Giuseppe Mangiacotti dell'Atletica Padre Pio, mentre al primo posto Antonio Pertosa dell'Atletica San Nicandro Garganico. Antonio Pertosa è campione provinciale. Gino Massa, fai il bravo, fai il bravo bene, lo sappiamo, insomma, altrimenti non si sarebbe ridotto in queste condizioni. Premia l'assessore, il primo è Antonio Pertosa, Antonio Pertosa è campione provinciale, premia l'assessore Romano, quindi l'assessore Garrap, sì, sì, oramai ci ha preso gusto per le premiazioni, ci ha preso gusto. Va bene, ho capito, grazie per il messaggio ricevuto, il messaggio forte e chiaro, perfetto, grazie. Categoria SM, grazie ragazzi. Ragazzi, non andate via perché c'è anche l'estrazione, c'è un'estrazione, quindi solo se siete presenti ci saranno dei premi, c'è anche una bicicletta, quindi non andate via, siamo ancora in orario. Ragazzi, tu devi tornare a Barletto, ma tanto, è vicino, dritto, 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 no, va bene, la prossima gara inizieremo dagli AG, categoria SM90. Grazie ragazzi, grazie ragazzi, ma voi avete pazienza, siete così? Avete pazienza. Ci sono, come da regolamento, ci sono l'estrazione di alcuni premi offerti dalla famiglia Sponzano, perché la gara è Memorial Matteo Sponzano. Grazie, grazie ragazzi, faremo le premiazioni, quindi l'estrazione, l'estrazione con i premi offerti dalla famiglia Sponzano, invito Antonio Sponzano ad avvicinarsi, quindi venite da questa parte. Santino, stiamo andando abbastanza veloci, so che ti attendo un'ora e un quarto, ma vista la famiglia, l'ora e un quarto di strada, sarà più veloce, tranquillo, tranquillo. Santino fa il bravo, Santino fa il bravo, che è successo Mario? Grazie ragazzi, volevo vedere se eravate attenti. Grazie ragazzi, categoria SM35, quinto classificato Michele Totaro della Manfredonia Corre, quarto classificato Davide Del Conte della Downy Running, terzo mio vocale, sta praticamente ritirando premi da quando aveva vent'anni. Pettorale 180, vi ricordate i pettorali solo per l'estrazione, solo se avete... Fai il bravo. Bravi. Pierpaolo Iomarrino, anche lui della Downy Running, primo posto per Alberico Di Cecco della Vini Infantini. Sì, se la facciamo, facciamo questa premiazione e poi... Va bene, perfetto, va bene, va bene. Grazie. Alberico Di Cecco, ritira Carlo, ritira Carlo. E come se ho curato, e dove stai? Ah, non c'è stasera. Ci guadagna sicuramente lì. Bravo Carlo. Fai il bravo, fai il bravo per favore. Bravo, sì. Ragazzi, siamo in perfetto orario, quindi tranquilli, non... Per favore, per favore, allora, cominciamo, facciamo sia le strattordici, quattordici atleti. No. Qualcuno si è fermato, sì, sì. Ci abbiamo le elaborazioni Onofre o computer, quindi... Massimo! Mai discutere i dati di Onofre. Odio! Onofre non sbaglia. Onofre non sbaglia. E grazie. Guardate qui, Carlo, Carlo. Carlo, guardate qua. Carlo, Carlo, guardate qua. Qua, ui. È stanco, Carlo, è stanco. Bravi. Hai fatto. Meo Dragano dell'Atletica Padre Pio. Quarto posto per Massimo Iuliani della Podistica Lucera. Terzo classificato Giuseppe De Padova della Polisportiva Eppe Merla. Secondo posto per Saverio Arena della Vieste Runner. Primo posto per Davide Carmine Pio Rendino. Guerino, per favore, spostati perché ti vedo malissimo. Sta sul fatto dall'altra parte. Sì, sta dall'altra parte. Salvatore. Premi all'assessore Carrata. Grazie. 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 La foto è sporca adesso. Carlo? Guardate qui. Giuseppe Baira, gruppo bodistico, Monte San D'Angelo Ragazzi mi suggeriscono dalla regia, siete stati fortunati perché oggi, anzi siete in due a non aver corso né Guerrino, né Guerrino Pasquale, tanto bene Michele Delita perché la categoria è questa Noi ci crediamo, lo diciamo, ma ovviamente non ci credete nemmeno voi Categoria SM65 Carlo, aspetta, aspetta, Carlo Bravo, Leo Bravo, Leo Classificato Salvatore Lopizzo, Margherita Di Savoia Runners, primo posto per Salvatore Iaccalino dell'Atletica Padre Pio Abbiamo altre tre categorie, ci siamo ragazzi tranquilli all'una massimo e mezza come nelle migliori tradizioni state a casa Anche perché se ci andate adesso date fastidio, quindi è meglio che state qua Sennò poi vi fanno apparecchiare, quindi meglio rimanete qui Allora Androgio Anni Granatiero, anche lui Manfred Donio Corre e primo classificato Luigi Pazienza Sono qui 70 Io voglio vedere quanto premi hanno i professori Ho insegnato i premi il consigliere Bumba Grazie ragazzi Categoria E, attenzione Giovanotti per favore Gino Manzi, mi raccomando Sì, sì, no, no, va bene, va bene, c'è era, era, no, no, va bene, andiamo avanti Ho fatto un commento, un commento infelice, sì, ne sono solo, ne sono solo tre, sì, sì Ho fatto un commento infelice, più che altro Però il fatto che stiamo a casa e diamo fastidio, questo è vero Questo può essere... Chiedo scusa, chiedo scusa, starò più attento per le prossime volte, va bene Chiedo scusa Abbiamo una serie... Michele Difa, vuoi... Ha già fatto il sindaco A come maggior ti farò premiare le categorie, scegli tu, scegli tu Scegli tu No, va lì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti